Buongiorno a tutti, come ogni inizio campionato ci sono dei risultati importanti e dei risultati strabilianti, ci sono qualche sorpresa, qualche novità, come succede a ogni inizio campionato. Quest'anno è il Lecce, il Lecce in questo momento battendo ieri il Genoa 1-0 è secondo in classifica a 11 punti, ha un punto dall'Inter con una partita in più, sicuramente un Lecce divertente, già l'anno scorso ha dato degli input positivi, quest'anno sta confermato. Ovviamente non sarà una classifica reale, come dice anche il suo allenatore, però diciamo lasciamo glielo godere perché comunque è una piazza divertente, è una squadra che fa un gioco divertente, è una squadra che sta scoprendo nuovi talenti, è una realtà che fa bene al calcio italiano. Salernitana e Frosinone invece si dividono l'1-1, un Frosinone che sta dimostrando di non avere paura di nessuno, anche lui nelle zone alte della classifica ovviamente provvisoriamente, però sono queste realtà come Frosinone che fanno bene al calcio, che danno qualcosa in più e che danno la speranza che anche le piccole realtà possono fare qualcosa di buono, quindi io sono assolutamente contento e favorevole a questo. Un po' il pareggio della paura, però la Salernitana è riuscita a raggiungere nel pareggio il Frosinone e smuovere la classifica di un punto, indubbiamente la Salernitana aveva delle prospettive diverse in inizio campionato. Comunque sicuramente è un campionato bello, divertente, che regalerà un sacco di emozioni.